Buonasera a tutti, dunque vi ho scoperto, siete tutti d'accordo? Buncherino, Iperione, Nano di Ostuni, forse anche Lufo di Roma, tutti quanti. Allora, Mauri di sicuro va aiutato in qualche clinica, da qualche parte, comunque fate come volete. La volta, comunque, che qualcuno mi farà qualcosa, io vi denuncio tutti quanti a Carabinieri. E niente, io smetto di fare video per un po', io in questo gruppo, mi dispiace tantissimo per Steppenwolf e Bandit XP, che sono i migliori, e mi dispiace, però non si può più andare avanti così. Sì, non lo so che cosa avete tutti quanti, d'altronde si è visto da quando avete stalkerizzato Matteo Montesi, Rosi dall'invidia, non lo so, non lo so. Io ho cercato in tutte le maniere di dare pace e amore, di volere bene a tutti. Non voglio la morte di nessuno, voglio che stiate bene, che vi ravvediate, ma finisco di fare video. Mi resta il dubbio sul lupo di Roma, sarà uno dei vostri fake, di sicuro, e tutto quanto. Va bene, rimanete con Lille Magda, rimanete con il vostro Maurino, che è tanto simpatico, i poveri, i poverino, dategli tutto l'elemosinina di cui ha bisogno, è buonissimo. Io vi dico una cosa, la volta che avrete sgarrato, chiamo i carabinieri, faccio nome e cognome di tutti quanti, di tutti quelli che siete d'accordo, e vi metto un cattabuia. Eh, mi dispiace, ma chi rompe, paga. Allora, di essere stalker, di avermi dato la morte, di essere d'accordo, probabilmente siete tutti d'accordo con un cerchio magico. Comunque basta, per ora non faccio nulla, non faccio più video, non mi rompete più. E addio a tutti, veramente, basta così, mi faccio ai fatti miei. Se ancora rompete a mia sorella, giuro che veramente vi denuncerò a carabinieri, vi metto in gattabuia. È la volta veramente che vi metto dai carabinieri o il TSO a tutti quanti. State attenti e arrivederci a tutti, eh.